... Lui cammina con tutta calma quando sta qui c'è l'esplosione quindi non fa così La macchina la faranno esplodere nel momento in cui tu correndo sei qua per cui ti puoi anche buttare automaticamente chissà davanti il capo squadra c'è andava indietro c'è un movimento Se mi rivolgo a lui dico che devo fare questi me li tengo In action! 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 In reparo, sui racionanti li! Los posiionalisti! Gossi!